Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Subito nel vivo della questione chiediamo a Cappato che cosa rappresenta questa candidatura. È una sfida? È un desiderio di vincere? Perché Renzi dice che non sono sicuro che Cappato voglia vincere. No, beh, quando si fa una sfida è per vincere. Io sono 14 anni che agisco da fuori dalle istituzioni, da fuori dal Parlamento. Ero stato parlamentare europeo e in questi 14 anni abbiamo cambiato delle leggi sulla fecondazione assistita con Filomena Gallo, l'associazione Luca Coscioni, sul fine vita. Le abbiamo cambiate come? Con le disobbedienze civili, i ricorsi giudiziari, le mobilizzazioni, i processi. Credo che questa elezione suppletiva rappresenti l'occasione per poter chiedere agli elettori di Monza e Brianza di continuare a fare le stesse cose, ma con un po' di forza in più anche da dentro alle istituzioni, se mi sarà possibile. E questo è il senso di questa candidatura, anche perché le elezioni suppletive non hanno la parte, diciamo, del proporzionale, cioè dove prevalgono i partiti e le coalizioni, e quindi le persone possono contare di più con la loro storia, ognuno la giudica, buona, cattiva, la giudica come vuole, e può prevalere quindi una logica di idee e di obiettivi, invece che di fazioni, è la mia speranza con questa candidatura. Che è un po' in controtendenza con quanto avviene da qualche tempo a questa parte sulle elezioni, no? Si votano schiedamenti e non persone perché il sistema elettorale, liste bloccate... La legge elettorale impone che se tu voti per un partito, automaticamente il voto è al candidato uninominale, cioè contro la libertà di voto dell'elettore. In questo caso c'è il nome, il cognome, un solo simbolo, e l'elettore di Monza e Brianza deciderà qual è la personalità, la storia e le proposte che ritiene preferibili. A proposito di storie e proposte, lei...